lascia andare piano il problema è che hai adderenza quando sei su vai almeno guardarli addosso posso capire fa il primo e poi era piano e poi se sei giuato a fare anche questo figa vai a guardarli io sono andato giù e vai dai su facci vedere ora proviamo a fare se vuoi quali che facciamo un'altra volta ma c'è un pezzo di radice che hanno fatto anche loro hanno fatto le due radici la prima la seconda e poi sono venuti su di qua a prendere molto larga larghissima adesso arriva lì guarda addosso e mi fa il verso guarda addosso guarda addosso guarda addosso guarda addosso guarda non la fa non la fa vai primo vai primo vai primo seconda ma lì non arrivano ma figuri se arrivano lì ma non arrivano mica lì ma 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 lì è vero è più la testa la non la lì la oi non la vo alle va fa Grazie 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 Grazie